Scommesse Serie A, statistiche pronostico di Udinese e Milan. Nel match del sabato sera l'Udinese ospita il Milan in una sfida di fondamentale importanza per i rossoneri che stanno lottando per un posto nella Champions League del prossimo anno. Alla Giaccia Arena l'11 di Pioli arriva dopo aver perso a Firenze e pareggiato in casa contro la Salernitana mentre i bianconeri, dopo sei gare senza vittorie, sono riusciti a conquistare i tre punti ad Empoli. Fai ora i tuoi pronostici. Esito in controtendenza, scopri il pronostico sulla carta. E anche per le quote, il Milan parte con i favori del pronostico anche se il 2 viene offerto ad una quota abbastanza elevata. L'elemento su cui potrebbe valere la pena accendere le luci dei riflettori è però il finale del primo tempo visto che, nelle ultime otto partite disputate, l'Udinese è andata sempre al riposo con un risultato di parità. Un segno X che, a questo punto, potrebbe anche cedere il passo ad uno qualunque degli altri due. Virgola.